Ci risiamo, signori, ci risiamo. Purtroppo si parla di cose negative per quanto riguarda il Grande Fratello Vip, negative fino a una certa, perché in un certo senso qualcuno potrebbe anche essere contento. Ma si parla di squalifica per quanto riguarda Edoardo Donna Maria, perché c'è stata una frase che non doveva essere detto. Appunto, si rischia la squalifica per questo. Una frase sul Covid, signori. Il concorrente del Grande Fratello Vip è da tempo ormai protagonista di una relazione con Antonella Fiordelisi all'interno della casa. O meglio, beh, insomma, fino a una certa lo era. Ma nella puntata del 27, non moltissimi giorni fa, oltre all'eliminazione di Eleonore Ferruzzi che abbiamo visto, anzi non solo lei, anche a Mauri Speras, c'è stato un duro confronto proprio tra Edoardo e Antonella. E proprio Antonella che è rimasta male per le parole di Sonia Pruganelli sul volto di forum, il quale non si è minimamente opposto alle dichiarazioni. L'opinionista del Grande Fratello ha detto che Edoardo non ha bisogno di portare avanti la storia con Antonella, diciamo, per provare a piacere al pubblico. Ebbene, lui non ha controbattuto. E questo che cosa ha fatto? Ha scaturito. Cosa? Che ha deluso parecchio la spadaccina che si è andata a sfogare con gli altri coinquilini dicendo, oddio, ho sbagliato tutto. Non mi dovevo avvicinare a nessuno, io lo sapevo. Dovevo starmene da sola, come sempre nella vita. Insomma, ha cominciato un pochino a piangersi addosso. Poi ha giunto, ah, con me ha chiuso. Così impari a non difendermi. Ma la storia con Antonella Fiordelisi sembra dunque arrivata al capolinea. Ma Edoardo e Donna Maria hanno altro di cui preoccuparsi in questo momento. E non sono sfuggite al pubblico le sue dichiarazioni sul covid che hanno creato un vero polverone sul mondo del web. Parlando con Jaële De Donà in Giardino, il personaggio TV ha espresso questa considerazione sulla pandemia e ha detto, ah, hanno fatto un casino, mamma mia che casino, alla fine non è successo, poi chissà che, ma dai. E dopo aver sentito queste frasi, diciamo, Jaële ha risposto cercando di far ragionare il suo interlocutore, dicendo, beh, insomma, dai, quanta gente ci ha rimesso la vita. Anche le mie hanno perso la famiglia, anche delle mie amiche sono andate via ed erano delle persone giovani, se ne sono andate così. L'influencer per l'occasione gli ha ricordato che quando si trovava a Los Angeles ha visto immagini per le quali non ha potuto non piangere. Quindi, da queste parole già possiamo capire che erano immagini molto forti, no? E anche Alberto De Pisis è intervenuto nella discussione, ha fatto i primi mesi, amore, era proprio fuori controllo la situazione, ma nulla da fare. Nulla da fare perché Edoardo e Dona Maria non ha minimamente cambiato idea, dicendo, sì, se ne sono andate tante persone, ok? Ma molte di meno di quelle che sono andate via, sempre in quel modo, per l'influenza stagionale. E dai, dai, hanno stecchito quasi tutta gente anziana con due o tre patologie pregresse, l'80-90%, se non addirittura di più. Ci sono le statistiche per questo, ragazzi. Non è che non contano niente, però muoiono anche per altre cose. E in tanti, sui social, hanno criticato Edoardo. Molti addirittura, appunto, come detto a inizio video, chiedendo addirittura la squalifica. Ma secondo voi, meriterebbe la squalifica per questo? Non decidiamo nulla noi, questo è vero, perché ci atteniamo a quel che poi farà il programma. Non lo so, non so che dirvi. Secondo me no. Non è una cosa troppo grave da una squalifica di un programma. Però, lascio detto a voi. Nei commenti potete dire la vostra. Nel frattempo, un saluto, buona giornata, buon proseguimento. Noi ci vedremo alla prossima, sempre su Pausa Caffè Live.